Le quarte da Fiorentina, prendiamo il gol come i polli, facciamo un po' più di dieci minuti di partita perché la voglio fare fino a un fondo, si prende, fanno un'azione e fanno un gol, noi tutta la partita è un attacco e non si segna, no non va bene così, così è un casino, così è un casino. Il quarte ha fatto una mongolata incredibile ma non è la prima quest'anno, brecalo, non ho più voce, strano eh, dodo, i battiti altissimi, si sapeva come? Cabral, amore è uscito, è uscito amore Cabral, Biraghi, Amore è uscito, amore è andato a panchino, Fiorentina avanti, Palla nel mezzo, molto bella, Dodò, Quame, forse fuori gioco, Attenzione, Quame, bellissima, buona avventura, Bellissima, Attenzione, Dodò, Castrovilli, Facciamo delle cazzate, facciamo delle cazzate, Madonna, Madonna, No dai via ragazzi, siamo all'85esimo, entro anche Barak, e ora in attacco è cambiato tutto, ovviamente ora in attacco c'è Brecalo, Quame e Jovic, vediamo se questi ultimi dieci minuti di partita la riprendiamo, cioè almeno andiamo in vantaggio perché siamo in pareggio, che go a Polli, che go a Polli, che go a Polli, madonna, madonna, comunque quel diuffe del Basile è forte, eh, porca madosca, 2003 ragazzi, vent'anni, veramente un bel giocatore, Barak, Dodò, in avanti, per Quame, valla fuori, Ancora Basilea, pallano avanti, ma non è possibile, non è possibile subire, meno di zero, un tiro a un porta e un gol, puttana maiala, bastarda, Dodò, ci prova Dodò, madonna, madonna, siamo rovinati, contropiede, contropiede, contropiede del Basilea, diuffe, è ovunque questo, ma che cazzo, fermatelo, palla dentro, niente da fare, Terracciano, 87, Maremma, maiala, puttana, Eva, dai su, spingiamo, fino a, fino a un fondo, fino a un fondo, dai, Dodò, Dodò, bene, come sempre, palla sbagliata, però in questo momento, niente, siamo, siamo stanchi, siamo stanchi, sono stanchi, attenzione, bellissima, Barak, bella, calcio d'angolo, calcio d'angolo, porco, cane, non voglio bestemmiare, madonna, che culo, forse andava dentro, forse andava dentro, dai, 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 pastrofilli, sulla bandierina, tutta dentro, attenzione, mannaggia, mannaggia, ragazzi, e niente, mi sa a me che bisogna andare in Svizzera, a giocarci, il tutto per tutto, mannaggia, chi è che c'ha baffi, c'è la mia figlia la viola, innamorata di Cabral, novantesimo, vediamo quanto sarà il recupero, sbaglia tutto, la Fiorentina, Basilea in avanti, cinque minuti di recupero, ancora cinque minuti, benissimo, Basilea, c'è spazio ancora forse per un'occasione, se ti è adesso, per vada a crociare, su di steppi, non verrà la possibilità, ai gestori del Basilea, di trovare velocemente il posto, devono riuscire a farlo, ovviamente quel tocco in più, che permetteria di flessiva, di posizione, Basilea ancora in avanti, laterale, Ranieri non male, quarta male, perdono tempo, perdono tempo, giustamente per loro, un pareggio a Firenze è tanta roba, fallo, fallo, e vabbè, è fallo, è fallo, no, però ragazzi, non si può attaccare tutta la partita, puttana Eva, non si può, già un minuto e mezzo, è passato, fischi di paura, della Fiesole, perdono tempo, palla nel mezzo, attenzione, palla nel mezzo, gol del Basilea, 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 sono sconvolti, poi lo vedremo come l'imbalzo, sono stati molto più veloci, e l'esti giocatori del Basilea, arrivano sempre prima gli Svizzeri, prima Langer, poi la riproposizione in mezzo, poi la libertà di colpire di Anduni, sesto in la Conference League, per Anduni, il Basilea, raccoglie il vantaggio, dopo una partita all'interno della quarta, ci saranno le cifre, la Fiorentina ha sicuramente creato molto di più, dicevamo questo durante tutta la partita, soprattutto quando la Fiorentina era a vantaggio, doveva riuscire a mantenere l'equilibrio, il 93esimo, attenzione, ancora Basilea, Dodò, grande, grande ripresa di palla, finita la partita, 94esimo, 2-1 per il Basilea, porco Dio, ora l'ho detto, 90 minuti di bestemmio, come sbaglia, Castrovilli, Mandragola, Mandragola sbaglia tutto, partita finita, siamo quasi al 95esimo, il Basilea vince a Firenze, bene così per loro, valla buttata via, Terracciano, Dodò, 30 secondi alla fine della partita, 15 secondi, 10 secondi alla fine, ultima azione, palla via, finita, l'anghe, finiscono qui, agtina, arrivo.